Un parcheggio su due piani all'ex Macello e piazza Matteotti libera dalle auto. Il percorso verso il duplice obiettivo di strappare dal degrado lo storico edificio di Viale Giuriolo e di dare la giusta dignità all'area su cui si affaccia Palazzo Chiericati è tracciato nero su bianco nella variante urbanistica a cui la giunta comunale ha dato il via libera per la discussione in consiglio. Ma i tempi si allungano, come ha spiegato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco a margine della presentazione della riqualificazione di Campo Marzo. È un problema naturalmente attenzionato e messo in sicurezza attraverso una strumentazione adeguata che ha portato anche purtroppo a un contenzioso con i vicini, ma quanto mai necessaria. Noi stiamo lavorando ad una progettazione che possa riqualificare con l'obiettivo di farne un parcheggio. I vincoli esistenti dalla soprintendenza, in particolare dal Ministero dei Beni Culturali, non ci aiutano perché sono vincoli indiretti, cioè per i quali è richiesta una procedura particolare di rimozione. però obbligano anche a ragionare sul recupero degli immobili in maniera vincolata, cioè siamo forzatamente legati al recupero della facciata, ad esempio, quando sarebbe sufficiente abbatterlo per ricostruire una struttura che magari riproponga questa soluzione già esistente e più storica. Purtroppo siamo vincolati a questo, la progettazione è in fase di ultimazione e la speranza che poi si possa investire per poter riportarlo a nuova luce. È un angolo buio della città che da tanti anni, almeno da 40 anni, è lì e che non ha mai visto, nonostante i tentativi del passato, una soluzione definitiva. Stiamo cercando di portarlo a casa con una soluzione che possa essere anche funzionale all'area parcheggi con la liberazione di piazza Matteotti dalle auto. L'ex macello è un po' il simbolo degli edifici che dismessi da decenni sono condannati a un inesorabile degrado se non vengono riqualificati e valorizzati con nuove funzioni MA. Nell'immediato siamo legati a delle tempistiche ben precise, siamo legati ad un vincolo indiretto che non dipende dal comune, complicato anche da rimuovere e siamo legati al fatto di doverlo mettere in sicurezza come abbiamo già fatto, chiaramente stando molto attenti che non facciano danni ulteriori, questo è l'obiettivo principale.